Un libro per raccontare la crisi profonda della Chiesa Cattolica, un escursus storico-filosofico che, a partire da Gesù, arriva a Papa Benedetto XVI. Elio Rindone, nel suo libro Da Gesù a Ratzinger, Ideale Evangelico e Cattolicesimo, propone una raccolta di articoli in cui si riflette sull'applicazione del Magistero Cattolico analizzando la congruenza o la distanza tra il messaggio evangelico di oggi e quello delle origini. Una riflessione interessante che potrebbe aiutare a comprendere i motivi per cui il Papa ha deciso di dimettersi, ponendo sul tavolo più che l'avanzare dell'età tutti quegli elementi che, come lui stesso ha detto, deturpano il volto della Chiesa. La struttura stessa della Chiesa, ormai molti teologi cattolici dicono che questa struttura clericale, questa struttura con un papato monarchico infallibile eccetera, non ha un fondamento proprio nel Vangelo stesso e allora appunto sono temi di fondo che hanno in particolare a che fare anche con il pontificato di Ratzinger, con le linee di fondo del suo pontificato, che è stato caratterizzato per la difesa di questi valori non negoziabili. Io penso, ma mi pare che sia tra le righe anche il parere dell'autore, che Ratzinger è anche corresponsabile della situazione di grave inquietudine, di grave disagio che vi è oggi nella Chiesa Cattolica. La radice di tutto questo probabilmente è il fatto che in questi venti secoli gradatamente la Chiesa Cattolica si sia allontanata dalla freschezza, dalla purezza del messaggio di Gesù, del messaggio evangelico e quindi ha messo in secondo piano quei valori di fraternità, solidarietà, democrazia, partecipazione, corresponsabilità che erano invece la grande novità del Vangelo.